Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi come vedete sono solo e questo sarà un video parecchio diverso dal solito. Ma facciamo un passo indietro per scoprire il perché. Come chi ci segue sui social saprà già, le settimane scorse eravamo in un tour per gli Stati Uniti, da Miami a New Orleans e ritorno proprio nel periodo di Halloween. Quindi siamo tornati con tantissimo materiale da farvi vedere e tantissime storie da raccontarvi. Però purtroppo siamo tornati anche col covid. La Cree infatti in questo momento è a letto con un po' di febbre e dolori dappertutto. Quindi era impossibile scrivere, registrare, fare i voiceover di un video normale. Quello che sarebbe stato il primo video della serie sugli Stati Uniti. Quindi ne approfittiamo. Non vi lasciamo soli questa settimana ma vi lasciamo con un lungo trailer che spoilererà un pochino quello che vedrete nelle prossime settimane a tema Stati Uniti. Detto questo non mi rimane che lanciare la sigla e lasciarvi al video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. a tutti.